E questa è la maxi storia di come la ricetta è cambiata C'è un video mio Che non contenga disagio Credo di no Comunque Benvenuti o bentornati Bentornati o benvenuti tesori In un nuovo mug Buonasera O qualsiasi alt pat del giorno sia Mentre avete scelto di guardare questo video Che cosa mangiamo? Allora La verità è che questa ricetta Questa ricetta Questa ricetta Questa ricetta Questa ricetta Deveva essere diversa Perché è una ricetta Che mi è stata consigliata Da una di voi Maria Un mega bacio Ti adoro già Abbiamo chiacchierato un po' Anche mi è fatto stra piacere Comunque Dovano essere orecchiette Alle cime di rapa E il problema è che Non sapevo Ne se c'erano Le orecchiette Ne se c'erano Le cime di rapa E sono partita E sono partita Cercando Prima le orecchiette E le ho trovate Dello stra contenta Poi sono andata a cercare Le cime di rapa E non le ho trovate Probabilmente Non è stagione Non lo so Comunque ormai Mi ero affezionata Alle mie cime Alle mie Orecchiette E quindi Ho deciso Di farle Con quello Che avevo in casa E ho fatto Un pesto Di peperoni Con dei pomodorini Freschi E dell'avocado Una ricetta Che avevo mangiato A casa di una mia amica Tra l'altro Già Quindi Più o meno Ma per l'avevo fatta Diversa C'avevo messo Il formaggio Vegano Ed è Io l'ho fatta Un po' più easy Però Trova per piacermi Trova per rendermi felice Ha un bel colore Assaggiamola E Mentre Smanciuchiamo Di che cosa Schiaccheriamo Schiaccheriamo Del Ammi a mangiare Intanto Le ho fatte tantissime In realtà Non so se la mangio tutta Però ci provo Chiaccheriamo Hotel Festival Dove sono andata Perché È buonissima Perché Con il video di Angelica Ho scoperto Che Un sacco di voi Più di quanti Immaginassi In realtà Conoscono Manca un po' di pepe Voglio un po' di pepe L'ho fatta L'ho fatta Veramente Veramente Troppa Vabbè Ci provo Dicevo Alcuni Dicevo Alcuni Di voi Addirittura Conoscono Il festival Dove sono andata Musica Altri di voi Conoscono Il tipo Di musica Che sono andata A sentire Mentre altri Assolutamente Non sanno Di che cosa Sto parlando Che cosa sia Un festival Grandcore Che cosa sia E Grandcore Di per sé Quindi Schiacchiamo 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 Di questo Allora Diciamo Che Non ho Molte cose Da mostrarvi Perché Non mi piace Molto andare in giro Per le feste Cellularando In faccia Le persone Spalafreshando Le persone Eccetera Eccetera Quindi Mi metterò Qua da parte Giusto Qualcosa Mentre Chiacchiero Magari La saletta Dove suonavano Il mio Outfit Del giorno Eccetera Eccetera Non posso Farvi sentire La Cioè Non è per niente SMA È come tipo Di musica Oddio Per me Si lo è Per me Il grande Con la musica Più rilassante Che ci sia Ma mi rendo conto Che Di base Non lo è Quindi Non penso Che uscire A farvi sentire Qualcosa Ma vi lascio In descrizione Qualcosa Che potete Sentire Però Per darvi Un'idea È carino Perché anche Così capite Un attimo Anche Che cosa Mi piace Che tipo Di persona Sono Che posti Frequento Anche se Non sono Gli unici Posti Dove Vado Però Penso Che il Grind Andrà Senti Che il Grind Sia una Delle cose Che mi rende Più felice Sulla faccia Della terra Quindi Potete capire Qualcosa Di più Di me Con questo Video Per darvi Un'idea Generale Penso Che La maggior parte Di voi Conosca Parentesi Maria Grazie Perché sono Stracontenta Di questa pasta Anche se non è Quello che avevamo Pensato Comunque A partarvi Un'idea Generale Un attimo Penso Che Conosciate Più o meno Tutti Bene o male Il film Le sventure La chiappa Di male C'è una scena In cui Non vi ricordo Se è quello Se è quello Col delfino Ricordate C'è il gallarello Della squadra Di Football Non mi ricordo Vabbè Comunque Un'idea Sventura C'è una scena Forse la mangia tutta C'è una scena In cui Lui va Lui va in un locale Dove c'è una musica Parecchio Assortante Lui cammina dalla gente E sarà contento Sta tranquillo Entra in una saletta Dove sta un ragazzo Ora non mi ricordo Comunque Quelli Che stanno Suonati in quel momento Sono in Up Dead Che sono Il gruppo preferito Di Jim Carrey E è musica Che rarra In core E nulla Nel posto Dove sto andata io Si chiama Scintilla Ed è un Un centro sociale Praticamente E È una scuola Prima Quindi è stato C'era molto bello Come posso Perché era leggermente isolato Con il cancellone Tipico Della scuola Dentro Le aule C'erano i bagni Quelli come quando Cioè Vai in ricreazione A scuola Non è molto molto carino È tutto fuori C'erano Le distro Che sono Questi banchetti Che vendono Le magliette Dei gruppi Piuttosto che I libri O le fanzine Che sono Dei piccoli opuscoli Che parlano di Non lo so Antispecismo Femminismo Cose così Comunque Per la maggior parte Delle volte Sono autoprodotti Da persone come me O come il mio ex fidanzato O come delle mie amiche C'erano lì Eccetera Eccetera E c'erano parecchi Banchetti Fichi Ovviamente Vendono Vinili E io Ho già passato Due ore A guardare Vinili Con il mio ex Fantastico C'era questa Salettina Se riesco Ve la faccio vedere qua Dove suonavano Una salettina Microscopica Era Cioè Era proprio Un'aula La grandezza Di un'aula Praticamente Metà Perché metà C'era il palco E l'altra metà C'erano le persone Che bocavano Che se Vi faccio vedere qua Forse un video Di qualcuno Che boca Ce l'ho Quindi Veramente Intanto che chiacchiero E era proprio Cioè O ti piaceva esattamente Quello che stavi sentendo O non si riusciva A stare dentro Perché Un caldo assurdo Un'umidità Umidità Umidità Pazzesca Noi abbiamo passato La marciopata Nel tempo Dentro Perché Vabbè Però Un po' Infibile Anche se Valide Del Cloud Comunque Del disagio Di questo tipo Di musica Quindi in realtà La caratteristica Mi è piaciuta Tantissimo E oltre a suonare Hanno anche profettato Dei film Sempre autoprodotti Stra carini Stra particolari Stra da comprendere Cose che comunque O ti piace questa Scena Punk Oppure No Penso che una persona Si possa divertire In un posto del genere Se non Se non gli piace Già questo Questo tipo Questo mood Questo tipo di musica Questo tipo di Di festival Per me è stato Un festival bellissimo Ma dall'altro Non lo facevano Da un sacco Di tempo E non ero mai Riuscito ad andare Quindi ero proprio Una bambina felice Con la mia bambolina A girare a pare Con le persone Tutte vestite di nero Con le Magliette dei gruppi Con le calze Stracciate I capelli Con i lati Fantastici Lo adoro Grazie Grazie Settember Tutti Smembal Perché mi sono Stra ultra Mega Divertita E voglio mangiare Un po' di questa pasta Aspettate Se non diventa fredda Io l'ho vestita Stra carina Mi metto una foto Pensavamo di Di dormire in macchina Invece poi Siamo tornati Ah come al solito Alla fine del video C'è la preparazione Della pasta E Ce l'ho Verso mattina Perché è durata Due giorni E hanno suonato Ogni volta Fino alle tre Tre e quattro L'ultima L'ultima mezzora Io e mia ex L'avamo sulle scale E dalle scale Si vedeva un ragazzo Che dormiva Per terra E il giorno dopo Quando stavo guardando Le stories Della gente che c'era Cosa va a essere pubblicato Eccetera eccetera Chiunque 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 Aveva la foto Di quel ragazzo Straiato per terra E Questa È la migliore Secondo me La frase Mi ha fatto ridere Per C'è ancora adesso Mi fa ridere C'è Genio Genio C'è Genio Poi stava Stava un ragazzo Che dentro Nella saletta Scusate Uncora un po' Di mal di cuore Che dentro Nella saletta Bocava tantissimo Tirava tutti in mezzo In pista Per bucare E poi fuori Tirava tutto Sudato Con una mini Radiolina A mettere Canzoni Trash Tipo Amanda Lire Piuttosto che Raffaella Carrà Piuttosto che cose Trash Tipo Yes I can Boogie 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 All night long Best friend Per tutto Per tutto il festival Guardia lui Ho passato Parecchio tempo Lo faccio sempre Però Allora questo ragazzo Ha avuto il cappello Per La maggior parte Del tempo Che abbiamo Chiacchierato E se ne è tolto A un certo punto E so dove va I capelli I capelli Ossigenati Arancio Non biondi Leggermente aranciati E non so Perché E non so perché Io ho un'immagine Nella mia testa Di Lucio Dalla Con quei capelli Però Sino gli occhialetti Rotondi E io ho detto Oddio Sempre Lucio Dalla E lui Si è straoffeso E tutta la gente Ha cominciato a dire No 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 Ma perché Pensavano A Lucio Dalla Come Una persona Cioè Grande No Ma chiaramente Anche lui È stato giovane E secondo me La giovane Un po' Sembrava Questo ragazzo Però Abbiamo risposto Tantissimo Perché lui L'ha proprio presa Non gli è piaciuto Anche se Cioè Non lo so Ma Lucio Ma Lucio Tra l'ora Era un po' Tuomo Comunque Ma vabbè Io ho cose strane Perché a me piacciono Le persone Tipo A me piace Ugo Tognazzi Tipo Crash Sex Symbol Per me Ugo Tognazzi Tutta la vita Quindi quel film Con il titolo Stralungo Persi Persi Nel lungomare Di agosto Quello che Sono sulla Oddio Con quella Quell'attrice Pionda Strapella Perché non mi vengono Mai i nomi L'ho rifatto Ma a me piace Quello vecchio Quello che Loro sono Sulla nave E lei è ricca E tratta male Il Il tipo Che guida La nave Penso O che prepara Da mangiare Non mi ricordo Faccio stare Caggiato Appunto Naufragano E Lei non sa fare Assolutamente Niente Deve affidarsi Per forza A lui Che Ovviamente Noia Davin Senta subito Scrivetemi Se vi ricordate Il titolo Non ho voglia Di prendere Il telefono E cercarlo Io E comunque Persi Non è Stato Nel Lo voglio Cercare Lo voglio Cercare Perché Sennò Mi dirò Matta Mi ha detto Il sogno Di notte Di mezza estate Ma non è Quello Il film Persi Come faccio Trovarlo Trovarlo Vediamo cosa esce Ok Dai vabbè Ok Allora Lui è Giancarlo Giannini Bellissimo uomo E lei è Mariangela Melato Stupenda Donna Alla Strico Nella Cerini Comunque Verdone Anche Secondo me È un bel uomo Vabbè Vabbè Forse Di gusti Particolari Io Il film È Questo Non so Se si vedrà Mai Ed è Travolti D'olio Il solito Destino Nell'azzurro Mare Di Agosto Come si Chiama Travolti D'olio Il solito Destino Nell'azzurro Mare Di Agosto È un film Bellissimo Secondo me E E quindi Poi non ho capito Perché si è offeso Che gli ho detto Che sembrava Lucio Dalla Per me C'è oltre Essere un grandissimo Artista È un dolce uomo Era anche un bel uomo Secondo me Quindi Divano Se stai guardando Questo video Io ancora Voglio dirti Che Sembri Lucio Dalla Da giovane E cos'altro C'era Il banchetto Antispecista Che faceva dei panini Strabuoni Ed è fantastico Perché la maggior parte Le volte che vado Nei posti Ho pure di non trovare Nuna da mangiare E invece lì L'ho sicura Che sarebbe stato Tutto vegano Poi facevano la pasta Oltranza La mettevano Sul bancone Del bar È offerta Libra Potevi strafogarti Quindi fantastico Non manca mai niente In questi posti Organizzazione fantastica Spero Lo rifaccia L'anno prossimo Il prossimo festival Del genere In cui voglio andare È L'Obscine Extreme Guys L'Obscine Extreme Sono anni Che ci voglio andare Ma l'ultima volta Mio ex Ci è andato da solo Non questa volta Questa volta Ci andiamo insieme E questi sono Dieci giorni Di grind Non stop Tenda Fango I'm gonna live My best life In Repubblica Cieca Poi che è un posto Che adoro Tantissimo Mi si stra piacera Ritornarci Non vedo l'ora E mi serve Una bambola nuova E un outfit Non lo so Tipo metterò 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 E' a luglio Quindi Vabbè L'uglio Repubblica Cieca Vabbè Metterò Il costume Di Powered E andrò in giro Con il ciambellone Di Pink Flamingo E' a luglio in realtà ne posso la mettere tutto sono tanto voglia di mangiare i pomodori e forse 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 i pomodori era meglio farli almeno scottare un po' il pomodoro crudo un po' il pomodoro crudo un po' il pomodoro crudo decisamente è meglio farli cuocere un po' però volevo questo rumore quindi li ho messi così basta anche perché poi mi gratto un po' il pomodoro lo sapete ho digerito forse lo lascio visto che tanto è grande io ho messo un po' il pomodoro io ho messo un po' il pomodoro e lei abbiamo strappardato anche in questo video spero che vi abbia tenuto in compagnia vi abbia strappato un sorriso quindi convenevoli della fine del video se questo video vi è piaciuto mettete un like se questo video non vi è piaciuto mettete un dislike non ci interessa l'importante interagire con i video aiuta tantissimo e quindi grazie 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 noi ci vediamo in un prossimo video e nulla grazie per essere stati con me fino alla fine e restate con me buona sera o qualsiasi altra parte del giorno sia mentre avete scelto di guardare questo video vi lascio la preparazione del piatto che vi consiglio però forse una scottatina ai pomodori inizzatela non so avvocato fresco a pomodori freschi però essendo pasta una scottatina ve la consiglio grazie per aver ispirato questo video grazie a tutti gli altri che hanno fatto qualche domandina su come era il posto come ero vestita dove era che cosa è il crime se ci potevo consigliare qualcosa da ascoltare quindi che ragazze che mi hanno dato l'ispirazione per questo video e nulla non vedo l'ora di andare all'option extreme quanto paga l'ugno ho messo ieri il post mancano tipo 283 giorni 282 adesso too much too much too much too much too much conoscete buonaparte vi metto anche buonaparte in descrizione miaow conoscete conoscete appare qui sui Grazie. Allora faccio un soffrettino piatto e poi ho patate e peperoni da frullare. E metto un po' nel pentolino qua insieme. Allora faccio un soffrettino piatto. 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 Soffrettino piatto. Soffrettino piatto. Allora faccio un soffrettino piatto. Soffrettino piatto. Allora faccio un 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 soffrettino piatto. Grazie. 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 Grazie.